Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. L'ultima volta che ci siamo visti in questa postazione ho realizzato un video nel quale sono andato a testare i componenti più economici da gaming teoricamente che ho trovato su Amazon e per sceglierli sono andato a cercare delle periferiche che a mio parere erano quelle che potevano attirare la maggior parte delle persone per alcune caratteristiche. Potevano essere estetiche come delle luci a led eccetera oppure per descrizione tipo gaming, 16 miliardi di dpi eccetera. E effettivamente ci sono riuscito perché in moltissimi hanno effettivamente commentato di possedere quel mouse chi si è reso conto che effettivamente non è un prodotto ottimo e chi invece lo difendeva a spada tratta. Prima di dire qualsiasi cosa ci tengo a precisare che quel video non è stato realizzato per denigrare i prodotti economici anzi è stato realizzato per farvi vedere che la parola gaming o comunque focalizzarsi su alcune caratteristiche che vengono scritte non è così importante perché effettivamente possono scrivere un po' quello che vogliono. Come ho già risposto nei commenti a tantissime persone, alcuni hanno detto Ah io quel mouse funziona benissimo, sei tu che non sai usare il mouse. Ho letto di quelle robe assurde. Sono un padre cinquantenne che lavora per comprare questi prodotti ai miei figli Non sono qui per sentirmi dire che fanno schifo perché non posso permettermi di comprargli un mouse da 50 euro Amico mio, con calma, nessuno ti ha detto che devi spendere 50 euro per il mouse di tuo figlio Semplicemente sto cercando di consigliarti di non comprare magari questo mouse da 9 euro Ma comprarne un altro che magari costa anche meno e funziona meglio Quindi ti sto cercando di aiutare a comprare un prodotto che per i tuoi soldi funziona meglio Non mi sembra una cosa tanto difficile Per tutti coloro che hanno detto che si trovano bene con questo mouse Benissimo, ma vuol dire che non hanno mai provato un mouse effettivamente buono Qui dietro di me ho impostato un setup per farvi vedere un attimo delle differenze Ho tre mouse, quello che utilizzo io attualmente che per carità è più costoso È uno dei migliori mouse che si possono trovare in commercio Ma è solo per farvi vedere come funziona bene un sensore Bene alla sua destra però abbiamo un altro mouse che sono andato a ordinare Seguendo il mio istinto su Amazon Non quello che avrebbero comprato la maggior parte delle persone E sono ricaduto su questo mouse della Sharkoon Che costa circa 10 euro come questo qui Quindi non sono andato a spendere né di più né di meno Oggi voglio andare a farvi vedere un attimo che cosa avrei scelto io Se avessi dovuto acquistare dei componenti con gli stessi soldi Giusto per farvelo sapere il totale del carrello dell'ultima volta era di 44 euro con questa tastiera Comprendendo tastiera, mouse, cuffie e tappetino Prima di farvi vedere effettivamente come funziona Voglio iniziare un attimo a elencarvi i componenti che io sarei andato a scegliere Nel caso avessi avuto un budget super ristretto per la mia postazione Iniziamo dal tappetino Questo è uno Swifter X Ma su Amazon se ne trovano tranquillamente sulla decina di euro Di identici praticamente E funzionano benissimo Decisamente più grande Ottima la finitura Io li ho già provati Purtroppo non ne ho ordinato un altro Ma funziona perfettamente E se ne trovano dagli 8, 9, 10, 11, 12 euro Quindi non serve a spendere i miliardi per il tappetino Ma avete un tappetino bello grande che copre sia tastiera che mouse Nel caso qualcuno non dovesse voler avere il tappetino così grande Ma volesse un tappetino più a dimensione naturale Ce ne sono altri sui 7,90 Comunque più grandi E a mio parere ovviamente consiglio un tappetino più grande Ma perché io gioco a sensibilità bassa Per quanto riguarda la tastiera Questa potrebbe andare comunque bene Ci sono delle soluzioni anche meccaniche Vi lascerò qualche link in descrizione Cinesi ovviamente Che funzionano molto bene E devo dire che Quello sicuramente è uno degli acquisti più buoni che si possa fare Oppure ci sono i classici kit di tastiera e mouse Nel mio caso Se avessi dovuto spendere la minor cifra possibile Seri andato sicuramente con la tastiera che avevo messo nel carrello precedente Che costava 7,90 circa E sicuramente se non le lucine Non ha nulla da invidiare a questa tastiera Per quanto riguarda le cuffie con microfono Qui diciamo che la mia opinione è un po' difficile da prendere Perché io preferisco per quando gioco Utilizzare delle cuffiette piuttosto che le cuffie Cuffiette con microfono per giocare diciamo non è sicuramente la soluzione più classica Però nel mio caso sarei andato ad acquistare un paio di cuffiette come queste In questo caso le ho pagate 6 euro Sono delle cuffiette della Sony E la qualità audio sono in ear in questo caso È 10.000 volte superiore rispetto alla qualità audio Delle cuffie che siamo andati a utilizzare l'altra volta Un ragazzo mi ricordo ha commentato Hai solo indossato le cuffie e hai detto che fanno schifo Perché effettivamente appena le indossi puoi capire qualità dei materiali Feeling e tante cose E io ho provato tanti tipi di cuffie Dalle cuffie da studio Dalle cuffie da gaming Di tutti i tipi Di tutte le marche Di tutte le fasce di prezzo Quindi so riconoscere abbastanza velocemente Se un prodotto è più o meno di qualità Infatti è molto difficile che vediate sul mio canale delle recensioni di cuffie Perché intanto è una cosa molto soggettiva E secondo io sono veramente critico da quel punto di vista Comunque per chi non dovesse voler utilizzare delle cuffiette Ci sono anche delle cuffie Effettivamente delle cuffie Su questa cifra Abbastanza economiche Senza microfono Io consiglio sempre di utilizzare delle cuffie Che sono delle vere cuffie E poi prendere un microfono anche economico a parte Se dovete parlare in TeamSpeak O in Discord con i vostri amici Durante le sessioni di gioco Per tastiera, mouse, cuffie e tappetino In questo caso il prezzo è di circa 35 euro Quindi siamo già 10 euro in meno Rispetto al prezzo totale che avevo speso La volta scorsa E adesso in molti di voi però staranno pensando Sì però non hai il microfono con le cuffie Bene Se io dovessi acquistare un microfono Spendendo super 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 poco La mia scelta ricadrebbe su questo Guardate Addirittura con l'asta Questo è un microfono di Guitar Hero Che si trova intorno agli 8-9 euro 10-15 proprio a esagerare Su Amazon E è un microfono che ha una qualità Veramente veramente incredibile Per il prezzo a mio parere Ed è un microfono USB Quindi non avete problemi Per il jack delle cuffie eccetera Potete utilizzare tutte le cuffie che volete E l'audio di questo microfono Vi assicuro che è veramente buona Per quanto riguarda Asta e microfono L'asta è cinesissima Costa 7 euro su Amazon Quindi Asta più microfono In totale 20 euro Avete Asta con microfono 25 se proprio Siete sfortunati E non c'è nessuna offerta Adesso però spostiamoci su PC Perché voglio farvi vedere La differenza di come si comporta Un buon sensore Contro Un sensore diciamo che Non è proprio il massimo Come prima cosa potete sentire Immediatamente la qualità dell'audio Che è nettamente superiore a quella Del microfono precedente Però è un microfono dedicato Tralasciamo tutte queste cose È veramente buono Per il prezzo Per il prezzo Che andiamo a pagare E penso che una soluzione Con asta e microfono Così potrebbe andare benissimo Per chi magari vuole iniziare A streamare Iniziare a registrare Qualche video su YouTube Senza spendere cifre incredibili Bisogna tenerlo molto vicino Per avere un'ottima qualità Però è effettivamente Un grandissimo investimento A mio parere Come primo mouse Andiamo a testare Quello del video precedente Che voi avete amato tanto In molti mi hanno detto Sei tu che non sai utilizzare il mouse Se non lo alzi Il mouse funziona perfettamente Adesso vi faccio vedere Che questo mouse Può funzionare in modo Sia corretto Che scorretto Per tutti coloro Che si sono trovati bene Con questo mouse Probabilmente lo utilizzano A una sensibilità molto alta Quindi vanno a effettuare Dei piccoli movimenti Con il mouse E effettivamente Non si comporta malissimo Quindi può essere utilizzato Per chi gioca di polso Ok? Però Per tutti coloro Che non lo sapessero Ci sono persone Che giocano con il braccio Ok? E questo è per avere Una migliore precisione Quindi quando andiamo A effettuare tutto Il movimento del braccio Abbiamo Lo spostamento largo E infine Muoviamo il polso Per avere un movimento Di precisione Questo si fa Con una sensibilità bassa Se lo utilizziamo A sensibilità alta Funziona abbastanza correttamente Perché dobbiamo fare Dei piccoli spostamenti Ma appena Iniziamo a muoverlo Più velocemente Guardate Non sto alzando Il mouse Questo è il movimento Guardate Sto facendo a destra e a sinistra E il mouse va su e giù Adesso voi mi direte Ma chi è che muove il mouse così? Se utilizzate Il mouse A sensibilità bassa Per dirvi Sensitivity Adesso io lo porto A 0.8 Che più o meno È a replicare Quella che utilizzo io Normalmente per giocare Quando io vado a effettuare Come potete vedere Per spostarmi Da una parte all'altra Devo effettuare Un grande movimento In questo caso Se io vado a fare A farlo velocemente Guardate la mira Se ne va completamente Per i cavoli suoi Adesso vi faccio vedere Il mouse Che avrei scelto io Sono andato un po' per istinto Probabilmente Magari ce ne sono anche Di migliori Sempre sulla stessa fascia di prezzo Questo vi ricordo È un mouse Della Sharkoon E costa circa 10 euro E Non è perfetto La qualità di materiali Personalmente È 10 volte superiore Rispetto a quella Del mouse precedente E vi faccio vedere Già Allora Il movimento Normale Più o meno È buono Se io vado ad effettuare Un movimento più veloce Comunque mantiene Tende a scendere Tende a scendere un po' La mira Ma comunque Mantiene Non si muove Completamente a caso Come l'altro Nel caso dove si andrà a farlo Super velocemente Perde il Posizionamento Ma non schizza Verso l'alto Non schizza Verso il basso Come faceva quell'altro Come potete vedere Succede lo stesso Ma Molto in modo ridotto Guardate Nella maggior parte Dei casi La visuale Funziona Decisamente In modo corretto Adesso come potete vedere Io posso muoverlo Abbastanza velocemente E Il mouse Funziona correttamente Quindi Nel caso dovessi Consigliare un mouse Sicuramente Consiglierei questo mouse Rispetto a un altro Adesso vi faccio vedere Come funziona Il sensore di un mouse Buono Questo È l'EC1A Della Zoe Costa circa 50-60 euro Non vi sto dicendo Assolutamente Di spendere 50-60 euro Per un mouse Fermi tutti Voglio solo Farvi vedere Come funziona Correttamente Il sensore Di un mouse Buono Ok Intanto Il tracking Del Nostro sensore È perfetto Inoltre Anche se io lo muovo La velocità Della luce Rimane Perfetto Non fa una virgola Come vi ho detto Il movimento Viene effettuato qui Con un movimento Veloce Da un lato All'altro Per i grandi spostamenti E poi il movimento Di precisione Viene fatto Con il polso Però questa Magari effettuerò Un video dedicato A parte Per proprio Questi movimenti Eccetera Per questo video è tutto Fatemi sapere Voi che cosa Ne pensate Spero di essere Riuscito a spiegarmi Al meglio possibile E che non ci siano Stati fraintendimenti Quindi Tutto ciò che faccio Lo faccio Puramente Per aiutare voi Non ho nessun vantaggio A dire che un prodotto Fa schifo Quindi cerco Semplicemente Di aiutare voi A effettuare Un acquisto migliore E non buttare I vostri soldi Tutto qui Se vi trovate bene Con quei prodotti Benissimo Ma vi assicuro Che ci sono dei prodotti Migliori Anche sulla stessa fascia Di prezzo Come potete aver visto In questo video Inoltre sul mio canale Troverete sempre E solo opinioni personali Vi dico Che grandissime ditte Anche mi hanno proposto Di effettuare Delle recensioni Positive Su dei prodotti Che io ritenevo Non buoni E piuttosto Non le ho effettuate Perché Ci tengo a darvi La mia opinione pura Se un prodotto Fa schifo Vi dico che fa schifo Se un prodotto È buono Vi dico che è buono In descrizione Come al solito Vi ricordo che trovate Tutti i vari link Dei prodotti Che vi ho fatto vedere Ovviamente ci sono Tutti i vari link Dei miei social E direi che Da Blink è tutto E ci vediamo Con il prossimo video Ciao ciao